Salve a tutti ragazzi e ben ritornati nel mio canale, con l'ultimo di palla è Rainbow Lugia che vi porto un nuovo video, oggi infatti vi porto un nuovo e fantastico BCBM ovvero una nuova fantastica compra vendita e riguardante una carta giapponese che ho comprato attraverso il sito di ebay, tutto questo dopo la sigla iniziale dal canale, buona visione a tutti ragazzi! Molto bene ragazzi, eccoci tornati! Allora, innanzitutto prima di mostrarvi la carta vi dico che è in giapponese ovviamente e è quasi in perfette condizioni La carta in questione è uscita l'anno scorso, quindi nel 2015 è contenuta all'interno di questo uploader e mi è stata spedita in posta aereo sono volute circa 3 settimane dal suo arrivo e se ricordate bene, in uno dei precedenti video feci un breve accenno e se ricordate quindi il video della carta, del report della carta di Upa Full Art del film Upa e lo scontro epocale accennai che venneva riportata una molto simile e questa appunto è la carta di cui parlai la carta quindi è Pikachu Full Art Battle Festa 2015 spero di aver detto giusto il nome, sinceramente comunque credo di sì che adesso vado un po' a memoria e niente, andiamo subito a toglierla dalla top loader così ve la mostro un po' meglio ho le mani sudate ho le mani sudate un po' anche da un vasilio, bene eccola qui veramente una carta fantastica vi metto il link in descrizione della precedente contravendita From Idei riguardante la carta Full Art di Upa uscita assieme a Upa e lo scontro epocale un nuovo film in Giappone uscirà anche in italiano, poi in Italia, credo prossimamente molto bella, secondo me è ancora più bella sì rispetto all'altra di Upa comunque anche quella è veramente una carta degna di nota veramente favolosa veramente bellissima qui infatti abbiamo Mewtwo, Mega Mewtwo X no Y, scusate, faccio un po' di confusione quindi Mega Mewtwo Y, qui a destra Mega Mewtwo X, Pikachu in primo piano dietro a sinistra abbiamo Upa e a destra abbiamo, a destra in alto abbiamo Zoro Catbrick Zoro Catbrick turbo in italiano molto bella e niente ragazzi, questo video termina qui veramente una carta veramente spettacolare ve la consiglio e niente ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un pollice in su a questo video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale a lei in modo tale da rimanere sintonizzati e da visualizzare i prossimi video che verranno commentate ragazzi sono sempre desideroso di conoscere un vostro parere nei commenti e niente ragazzi, noi ci salutiamo e ci rivediamo in un prossimo video salve a tutti ragazzi, ciao salve a tutti